Vivi le tue occasioni speciali con noi. Il prestigio e la flessibilità della struttura permettono di rispondere a tutte le esigenze del tuo evento. Compleanni, anniversari, lauree, feste private, convigni, mostre ed esposizioni, sfilate di moda, eventi musicali e ricorrenze in genere. Nulla verrà trascurato. Cureremo per te ogni dettaglio. Telefona al 340 575 1725. Saremo lieti di riceverti per visionare il locale e per sviluppare un preventivo adatto alle tue esigenze e una iniziativa Associazione Club Modà. Viale Terracati 31 Siracusa. Per le tue occasioni speciali.